Si chiude il cerchio, gli studenti del liceo Manzoni di Lecco, dopo due anni nei moduli prefabbricati, torneranno nella sede di via Ghislanzoni. Ma facciamo un passo indietro. In principio fu il crollo del controsoffitto di metallo in una delle aule della scuola media Tommaso Grossi. Era il 2014, fortunatamente solo un grande spavento, e gli alunni erano già a casa, al momento del forte boato. Da allora sopralluoghi, lavori di sistemazione, fino al via nel 2019 dell'importante progetto di ristrutturazione dello storico edificio di via Ghislanzoni, che oltre ai 140 studenti delle medie, subito trasferiti nella sede del Don Guanella, ospitava 16 classi del liceo Manzoni. Per mesi ignari di quale sarebbe diventata la loro destinazione quotidiana, studenti e insegnanti del liceo hanno infine svolto gli ultimi due anni nei prefabbricati costruiti nel cortile tra l'ex istituto Bovara e il Bertacchi, in via 11 Febbraio. Capitolo a parte per la nuova palazzina, non sono mancate le polemiche, prefabbricati sì, prefabbricati no, i rinvii con l'entrata degli studenti posticipata di alcune settimane tra settembre e ottobre 2020, e infine la pace con l'apprezzamento dei nuovi spazi, più accoglienti e moderni dei classici edifici scolastici. Ma a settembre sarà tempo di migrare nuovamente. La presidente della provincia di Lecco, Alessandra Hoffman, il consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica Fabio Pio Mastro Berardino, hanno comunicato alla fine dei lavori di messa in sicurezza e di ammodernamento strutturale e tecnologico effettuati dal comune di Lecco in via Ghislanzoni. E così il prossimo anno scolastico circa 400 studenti torneranno o andranno per la prima volta nella sede originaria, che però non accoglie l'intero liceo Manzoni, classico linguistico, che rimane diviso su due spazi. Finalmente, spiega la provincia, dopo due anni liceo Manzoni potrà dunque tornare nella sua sede naturale, di grande pregio dal punto di vista storico architettonico, dotata di tutti i servizi necessari alla didattica, tra cui laboratori di chimica, fisica e informatica, oltre che della preziosa biblioteca con oltre 14.000 volumi. In accordo con la dirigente scolastica, continuano Hoffman e Mastro Berardino, abbiamo programmato il trasferimento a settembre per dare modo agli studenti di completare l'anno scolastico nella struttura provvisoria senza ulteriori disagi e dare tempo a tutti gli attori coinvolti di completare le rifiniture necessarie nell'edificio di via Ghislanzoni. Cosa sarà dei moduli prefabbricati? Resteranno a disposizione per le scuole in caso di altri lavori urgenti e non differibili.